Ancora non ho visto i risultati ma si parla di una vittoria schiacciata. Sì, abbiamo almeno i dati parziali che ci siano forniti adesso dai seggi, dovremmo essere intorno al 95% dei consensi ottenuti per la mia lista. Anche l'affluenza non è stata bassa rispetto alle aspettative perché noi abbiamo fatto una campagna elettorale a due liste quindi con due liste abbiamo raggiunto quasi il 50% degli elettori quindi anche l'affluenza ha risposto bene. Adesso dobbiamo solo iniziare a lavorare con la nomina dell'aggiunta e la convalida degli eletti. Sì, era già vice-sendro con la passata amministrazione quindi un segno della continuità diciamo. Sì, l'ho detto anche nei comizi, il nostro principio sarà quello della continuità. Chiaramente dovremo sfruttare al meglio le progettualità del Piano Nazionale di Resilienza e puntare molto sulla promozione del territorio. Questi sono gli obiettivi che ci siamo prefissati. Altri obiettivi? Altri obiettivi per adesso a caldo sono... Questi sono i principali. Continuità, sfruttare il Piano Nazionale e promozione del territorio. Puntare molto sulla cultura e riempire questo contenitore che abbiamo ammodernato in questi dieci anni. Grazie a voi.